Storie di donne ossessionate dai capelli bianchi, anche giovani donne. E' uno spauracchio il capello bianco, ah il capello bianco, hai visto? Mi sono cresciuti nei capelli bianchi. E' così bello capello bianco, è ovvio, bisogna curarlo, necessita di tagli e di accorgimenti professionalmente parlando, intendo, a livello trigologico, delle cure particolari, necessita di attenzione, ma è così bello, è così rassicurante, sia su visi giovani, sia su visi non più giovani, sia su visi, usiamo pure questa parola perché io la trovo rassicurante e non negativa, su visi vecchi. Una bella donna vecchia, un bell'uomo vecchio, con il loro capello bianco, se hanno un'immagine insieme curata, sono estremamente interessanti. Se viceversa una persona giovane ha i capelli bianchi, sappia che è un meccanismo per arrivare a una seduzione raffinata attraverso piccoli accorgimenti, ad esempio l'accostamento di certi colori dell'abito, il trucco. Insomma, il capello bianco non è uno spauracchio, il capello bianco è un bellissimo passaporto per apparire cariche di stile e di originalità. Insomma, il capello bianco è un'immagine cura, è un'immagine cura. Insomma, il capello bianco è un'immagine cura. Insomma, il capello bianco è un'immagine cura.